La decisione sull'omicidio del 28enne Davide Di Maria arriverà la prossima settimana. Intanto i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Genova hanno accolto la richiesta di concordato formulata dei difensori del gelese Vincenzo Morso e del figlio Guido. Oltre ad aver subito una pesante condanna in primo grado accusati di aver ucciso Di Maria, 15 anni e 8 mesi al padre e 17 anni al figlio, rispondono anche del possesso di armi e di ricettazione con il concordato. Però la condanna per queste contestazioni meno gravi è stata ridotta due anni e otto mesi di reclusione ciascuno. In primo grado a Vincenzo Morso erano stati combinati quattro anni, al figlio Guido invece quattro anni e cinque mesi. Il concordato è stato proposto dai difensori che comunque contestano anche l'accusa di omicidio. Secondo la loro versione Vincenzo e Guido Morso non avrebbero ucciso Di Maria al culmine della rissa scoppiata tra più persone all'interno di un'abitazione della zona di Molassana. Per il 28enne fatale è stata una ferita da taglio. Il coltello però non è mai stato trovato e i Morso hanno sempre sostenuto di essersi presentati in quell'appartamento armati solo di pistola. In primo grado al termine del giudizio abbreviato la ricostruzione non ha convinto i giudici della Corte d'Assise del capologo Ligure che hanno ritenuto colpevoli a entrambi gli imputati. Gli avvocati Giacomo Ventura subentrato nel giudizio di secondo grado, Riccardo Lamonaca e Mario Iavicoli hanno proposto ricorso con ulteriori elementi a sostegno delle loro tesi. In base a quanto emerso dall'indagine invece i contrasti tra i Morso e il gruppo di Di Maria del quale avrebbero fatto parte anche Marco Ndià e Cristian Beron a loro volta presenti nell'abitazione di Molassana sarebbero sorti per rivalità nella gestione dello spaccio di droga. Non si esclude che ci fossero dei debiti da saldare.